Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione straordinaria del TG6. Come avevamo annunciato durante l'edizione delle 14, questa mezz'ora che ci accompagnerà sarà dedicata ancora una volta al ricordo delle vittime di Rigopiano, le 29 persone decedute sotto la valanga che il 18 gennaio di un anno fa ha distrutto l'hotel di Farindola e che oggi vengono ricordate con una lunga giornata vissuta tra Rigopiano, Farindola e Penne. Noi adesso torniamo in diretta proprio con il palazzetto dello sport di Penne dove c'è Paolo Renzetti che sta seguendo questa intensa giornata di commemorazioni. Davvero una giornata lunga e piena e densa di eventi e di emozioni Paolo perché si è iniziati questa mattina con la deposizione della corona di fiori davanti al luogo dove era presente l'albergo e dove adesso non c'è più nulla e poi si è proseguiti con la fiaccolata, la messa. Ma raccontaci meglio invece di questo pomeriggio Paolo, che cosa è successo e quali sono le emozioni che avete vissuto. A te. Grazie Alfredo, prendiamo la linea, sono le 17 e due minuti ed è iniziata da un paio d'ore la parte pomeridiana di questa lunga giornata dedicata al ricordo delle vittime di Rigopiano a questa tragedia che si verificò esattamente un anno fa. Alle mie spalle potete vedere anche grazie alle immagini di Gaetano Tereo c'è il palazzetto dello sport di Penne dove si sta svolgendo appunto tutta la manifestazione, tutti gli eventi si stanno svolgendo che riguardano proprio questo pomeriggio. Dicevo, il tutto è iniziato intorno alle 15 quando ha iniziato proprio a cantare il tenore Piero Mazzocchetti che avevamo avuto nostro ospite in diretta nel corso del TG6 delle 14, ha cantato alcune canzoni Piero Mazzocchetti grande commozione tra i presenti, tra l'altro dobbiamo dire Alfredo che come facilmente immaginabile il palazzetto di Penne non è riuscito a contenere circa 1500 persone che si sono presentate questo pomeriggio qui proprio presso il Palasport capienza massima di 950 posti, dunque per gli altri non è stato possibile entrare all'interno è stato allestito un maxischermo nel piazzale che si trova proprio invece di fronte alla postazione da cui vi stiamo parlando in questo momento dunque tante persone sono state costrette a seguire dall'esterno proprio per la capienza ridotta o comunque insufficiente del Palasport questi eventi che stanno proseguendo, che si stanno susseguendo proprio all'interno del Palazzetto dello Sport di Penne dicevo dopo il piccolo concerto di Piero Mazzocchetti è stato proiettato un video, un video a ricordo delle 29 vittime un video che ha ricordato purtroppo quello che è accaduto lo scorso anno, il 18 gennaio del 2017 sono state lette delle poesie, è stato fatto un ricordo delle vittime di questa tragedia delle 29 persone che purtroppo non ce l'hanno fatta un anno fa e ora si sta continuando sempre anche con l'aiuto e con la collaborazione di alcuni ragazzi delle scuole con il ricordo di questa tragedia ci sono ovviamente tutti i parenti delle vittime ci sono tantissimi cittadini sia di Farindola che di Penne e ovviamente c'è grande commozione, grande partecipazione emotiva da parte di tutte queste persone che questa mattina avevano seguito, seppur in numero minore, la prima parte della giornata con la deposizione di una corona e di alcuni mazzi di fiore proprio all'ingresso di quello che lo scorso anno, fino allo scorso anno era il resort, l'hotel di Rigopiano poi persone che hanno partecipato alla fiaccolata e anche quelle persone, quei cittadini che hanno seguito sia dall'interno che dall'esterno della chiesa di San Nicola la messa che è stata ufficiata dal vescovo della diocesi di Pescara Penne Monsignor Tommaso Valentinetti e dunque mentre stanno proseguendo gli appuntamenti all'interno del Palasport se tu sei d'accordo Alfredo io potrei potremmo tornare a raccontare un po' quello che è accaduto un anno fa nelle parole di chi è stato tra i primi ad arrivare proprio fra le macerie nella notte tra il 18 e il 19 gennaio fra le macerie dell'hotel Rigopiano abbiamo ascoltato infatti prima uno dei soccorritori, uno dei volontari che è arrivato per primo nei pressi dell'hotel dell'albergo Rigopiano Fabio Pellegrini, giovane di Loreto Aprutino andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto Fabio Pellegrini è stato uno dei primi volontari ad arrivare lo scorso anno un anno fa nella notte del 18 gennaio nei pressi dell'albergo dell'hotel di Rigopiano che cosa ricordi di quella sera, di quella notte? Ricordo la sofferenza passata in quelle ore ricordo tutti i passi che ho fatto dal momento in cui ho messo gli sci ai piedi fino ad arrivare qua sull'hotel e purtroppo le brutte immagini che ho visto appena sono arrivato lì al ridosso dell'hotel Quando siete arrivati era notte fonda, nevicava, non si vedeva praticamente nulla ma sentivate qualche urla, qualche lamento, arrivava qualche lamento o qualcosa dall'interno dell'albergo? No, assolutamente no tant'è che delle volte qualcuno gridava per cercare di sentire qualcosa ma non si sentiva nulla ogni tanto cercavamo di stare nel silenzio più assoluto per cercare appunto di udire qualsiasi grido di aiuto ma nulla sentivamo solo il vento e basta La mia impressione iniziale era di totale sgomento poi piano piano incominciavo a cercare di guardarmi intorno per trovare dei punti di riferimento perché inizialmente vedendo quella scena orribile non avevo nessun punto di riferimento e quindi la mia speranza è che tutti fossero ancora in vita che speravo che appunto anche il campo da tennis che era appena a monte della struttura avesse fatto da scivolo e la valanga appunto passando sopra questo campo da tennis avesse fatto da scivolo, avesse tranciato i piani superiori e lasciando appunto intatto il piano terra mentre invece poi purtroppo giorni seguenti quando sono ritornato ho visto che comunque anche lì dove io pensavo e speravo che almeno era intatto era anche lì e eravamo arrivati a terra a scavare e quindi vedevo che appunto anche nella parte della sala garden era stata devastata dalla valanga E in queste parole si legge tutta l'amarezza, tutta la durezza di quella giornata di quelle ore vissute poi successivamente nell'ansia di trovare i dispersi e poi nella delusione di raccogliere le 29 vittime tragedie di Rigopiano che ad un anno di distanza è ancora ben viva non solo nella memoria, l'abbiamo ascoltato di chi era lì sul posto presente per aiutare, per aspettare notizie, per raccontare come abbiamo fatto noi nel nostro piccolo quelle ore ma viva anche nel ricordo di tutto il paese tra l'altro questa mattina c'è stato il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella poi nel pomeriggio è stato osservato un minuto di silenzio all'interno della cabina di regia per la ricostruzione che si è svolta oggi a Pieve Torina in provincia di Macerata e che ha approvato anche misure con un piano da 1 miliardo e 35 milioni di euro per il cratere sismico del centro Italia messaggi che arrivano anche dalla vicina regione Marche che ha voluto ricordare appunto la tragedia di Rigopiano inviando un messaggio dedicato soprattutto ai familiari delle vittime esprimendo sentimenti di sincero affetto e vicinanza questo appunto è il messaggio della regione Marche ma davvero sono tanti gli interventi a supporto delle vittime e delle famiglie Cordoglio è stato espresso anche dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che appunto ha detto Cordoglio è vicinanza le famiglie delle vittime di Rigopiano in questo giorno di commemorazione si è ricordato anche e lo ha fatto proprio Borrelli l'evento eccezionale che si verificò in quelle ore con il sisma, la neve e poi questa valanga che ha spazzato via l'hotel di Farindola torniamo a Penne adesso torniamo da Paolo Renzetti ho in qualche modo introdotto la prossima intervista Paolo che è quella a Gianluca Tanda che in questi mesi lunghi successivi alla tragedia ha tenuto un po' le fila ha riunito il comitato delle vittime Paolo esattamente Alfredo ho detto bene perché Gianluca Tanda lo abbiamo ascoltato pochi minuti fa indaffaratissimo perché ricordiamo che questa giornata questa cerimonia che sta abbracciando tutta la giornata di oggi 18 gennaio è stata organizzata proprio dal comitato parenti vittime di Rigopiano Gianluca Tanda è il portavoce ed il presidente del comitato ed è stato proprio impegnato sin da questa mattina alle 5 proprio nel mettere a punto tutti i dettagli affinché non ci fossero davvero problemi e inghippi proprio per il regolare svolgimento proprio di queste cerimonie di quello che è stato fatto questa mattina la cerimonia di in ricordo proprio delle vittime con la deposizione della corona poi la fiaccolata e la messa poi oggi messa ufficiata dall'arcivesco dal vescovo di Pescara Penne Valentinetti e poi questo pomeriggio la parte proprio al chiuso qui nel palasport di Penne che si sta ancora tenendo e noi tra l'altro tra un momento e l'altro proprio della cerimonia che si sta tenendo nel palasport di Penne abbiamo avvicinato abbiamo ascoltato Gianluca Tanda che ha voluto lo possiamo anticipare ha voluto ringraziare l'Abruzzo per l'affetto che ha riservato anche oggi ha detto Gianluca Tanda ai parenti delle 29 vittime dunque possiamo ascoltare Gianluca Tanda avete ricordato questa tragedia accaduta un anno fa oggi è il giorno del dolore però anche della speranza ed è il fatto che bisogna cercare comunque di andare avanti sapendo che c'è anche la giustizia che deve fare il suo corso oggi effettivamente abbiamo fatto questa manifestazione qui al Todeme non a caso alle 9.45 perché era l'ora in cui loro stavano lì tutti in fila per andare via ma purtroppo non gli è stato concesso come lo sappiamo e che dire poi faremo delle tappe appunto nel ricordo loro questo è fondamentale tutte le tappe che faremo tutte le parole che useremo tutta la musica ogni nota che metteremo ogni persona che ci darà la mano in questo è stata è stata dettata da tutte le persone che ci hanno aiutato che ci sono state vicino quindi ci sono ci sono messi a disposizione fin da subito e questo dobbiamo dire grazie a tutti gli amici tutta la popolazione che ci ha stretto intorno a noi ci ha alleviato un pochino il dolore perché sentirsi solo solo lì è brutto certo poi la giustizia ci è stata sicuramente la giustizia lo speriamo la giustizia ma non è oggi il momento di parlare di giustizia lo guardiamo perché qui gridiamo il nostro dolore per i nostri cari ma gridiamo anche ovviamente in silenzio nella nostra voglia di di verità qual è il ricordo di tuo fratello a distanza di un anno un ricordo più caro che porti nel tuo cuore appunto è un ricordo più caro che lo voglio portare nel mio cuore non mi va di dirlo ad altri però erano tutti qua erano 29 persone magnifiche e allora Paolo abbiamo ascoltato anche la voce di Gianluca Tanda davvero l'anima di questo comitato vittime che si è impegnato non solo nell'organizzazione di questa giornata di commemorazione ma che si impegna ogni giorno pungolando sia gli organi di stampa ma anche la magistratura che lo ricordiamo sta portando avanti un'importantissima inchiesta su quanto accaduto e sulle responsabilità di questa tragedia chiaramente oggi non è il giorno per discutere di queste cose ma è anche importante e doveroso per noi ricordare che c'è un'inchiesta in corso che coinvolge anche personalità importanti 23 sono gli indagati primo fra tutti il prefetto di Pescara che coordinava le operazioni di soccorso all'interno della prefettura appunto e parliamo di Francesco Provolo torniamo però alle note forse un po' meno gravi Paolo ti faccio sentire perché probabilmente nemmeno tu l'hai ascoltata e la facciamo sentire soprattutto ai nostri telespettatori si tratta di una composizione musicale di un brano che è stato inciso proprio per l'occasione dell'anniversario della tragedia che ha colpito Rigopiano l'anima e la band delle stanze di Federico che assieme ad artisti emergenti del panorama musicale abruzzese hanno organizzato l'iniziativa per non dimenticare questa terribile giornata sentiamo una parte di questa canzone mi manchi l'ho detto e non è facile dire di più il sole che ho dentro non è quello di maggio non è quello di maggio che mi scotta e tu sei dove vorrei chissà in quale parte del mondo sei mi manchi l'ho detto ma non tu ne hai mi manchi l'ho detto e non è facile dire di più il fuoco che ho dentro si è spento quel giorno pioveva e tu non sei dove vorrei chissà in quale parte del mondo sei mi manchi l'ho detto mi manchi ma non tornerai nemmeno per Natale quando la gente sorride qualcosa sopravvive dove la neve non cade le passeggiate insieme con poche ore di lì mi manchi l'ho detto mi manchi ma non tornerai mi manchi l'ho detto mi manchi ma non tornerai mi manchi l'ho detto e sarò stacco e sarò stacco per dire di più il tempo che ho perso cercando parole che adesso non servono più non sei dove vorrei chissà in quale parte del mondo sei mi manchi l'ho detto mi manchi ma non tornerai e allora Paolo abbiamo ascoltato anche questo brano dedicato alle vittime di Rigopiano dove la neve non cade il titolo chiaramente non è scelto a caso così come le parole della canzone non sono scelte a caso un pomeriggio triste però d'altra parte bisogna andare avanti bisogna però ricordare quello che è successo affinché non accada più Paolo che si dice lì appenne qual è l'emozione che avete vissuto in queste ore che ci hai fatto sentire tramite le parole delle persone che hai intervistato ma tu eri presente insomma in quei giorni quindi ci puoi dire ad un anno di distanza che sensazione ti ha fatto tornare lì dove è successa la tragedia Paolo guarda Alfredo è stata oggi davvero credo una sorpresa per molti direi forse per tutti tornare esattamente 365 giorni dopo quel 18 gennaio e ritrovare e lo abbiamo visto anche dalle immagini che vi abbiamo proposto prima da Rigopiano poi da Farindola e ora da Penne ritrovare comunque una situazione ambientale e climatica completamente diversa ne ha parlato anche il vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti ha parlato del sole del clima direi anche a livello di temperatura quasi primaverile oggi a Rigopiano basti pensare Alfredo che alle alle 12 alle 12 12 e mezza a Farindola c'erano oggi 18 gennaio 2018 c'erano 14 gradi una temperatura per queste zone comunque di montagna quasi quasi da mese di marzo sicuramente non da mese di gennaio abbiamo a distanza di un anno ritrovato una zona completamente trasformata nel senso che al di là di quelle immagini che ovviamente hanno toccato tutti di quell'ammasso di lamiere e di macerie che nascondono un albergo che ora non c'è più abbiamo anche visto che attorno a quelle montagne oggi non c'era praticamente quasi neve rispetto ai muri e ai 3, 4, 5 metri di neve che c'erano esattamente un anno fa è stato davvero diciamo incredibile vedere in pieno inverno in questa zona lo scorso anno distrutta dalla valanga e da giorni e giorni di nevicate e di mal tempo vedere oggi nello stesso giorno anche se 365 giorni dopo una zona senza neve ha fatto davvero impressione quasi al contrario vedere questo clima opposto a quello di un anno fa ne parlava anche Gianluca Tanda nell'intervista ne ha parlato anche il Vescovo di Pescara e anche altre persone che abbiamo avvicinato al nostro microfono e tutti hanno detto perché lo scorso anno non poteva esserci questo sole perché lo scorso anno non poteva esserci questo tempo questa temperatura quasi mite quasi primaverile e invece c'era quell'inferno che si è scatenato nel pomeriggio del 18 gennaio e dunque anche questo diciamo ha purtroppo fatto parte di questa giornata di questa giornata particolare in cui i parenti delle vittime hanno rivissuto il dolore di un anno fa ma lo hanno fatto con grande compostezza con un dolore che hanno tenuto soprattutto dentro e noi Alfredo tra le tante testimonianze che abbiamo raccolto fra questa mattina e oggi pomeriggio abbiamo anche avvicinato abbiamo portato ai nostri microfoni un'altra testimonianza forte quella di Marco Foresta un giovane pure qui residente nell'area vestina che nella valanga nella tragedia di Rigopiano ha perso entrambi i genitori dunque se la regia è pronta io chiedo a Maurizio Dagui di poter mandare il contributo proprio dell'intervista al giovane Marco Foresta oggi siamo qui a quest'ora perché è un'ora simbolo del muro di neve che avevano davanti che non ha permesso ai miei genitori come a tutti gli altri ospiti di fuggire da questo posto la forza che ci stiamo dando in famiglia e col gruppo del comitato che è diventata un'altra famiglia è proprio quella di arrivare prima possibile alla verità e alla giustizia avere giustizia per tutti coloro che oggi non ce l'hanno fatta e perché queste cose non accadano più un anno fa proprio qui alle nostre spalle c'era l'hotel Rigopiano c'erano muri e metri di neve oggi non c'è quasi neve c'è il sole il cielo sereno sì sono due giornate agli antipodi quando succedono queste cose vai sempre a pensare non poteva farlo l'anno scorso una giornata del genere ma purtroppo non si torna indietro e siamo qui per ricordarli chi ti ha dato la forza per comunque andare avanti questa è una risposta che mi sto ancora cercando sto cercando ancora di trovare una risposta a questa domanda in famiglia appunto col comitato che siamo diventati un'altra famiglia cerchiamo di darci forza tutti insieme tutti insieme andare avanti per quella che è la nostra strada ora un anno fa eravamo tutti con altri pensieri tutti con altre meno problematiche di quelli insomma che abbiamo adesso certamente per i familiari delle vittime di Rigopiano la vita dal 18 gennaio 2017 è radicalmente cambiata purtroppo in peggio Paolo restiamo al ricordo delle 29 vittime perché oltre alla cerimonia di questa mattina alle 9.45 c'è stata anche la messa a dimora di 29 piante raccontaci Paolo Sì c'è stata questa cerimonia proprio prima dell'inizio invece di tutto il programma degli eventi all'interno del Palasport sono state piantate queste 29 piante una per ogni vittima dell'hotel Rigopiano in un giardino in un prato proprio qui a ridosso del Palasport di Penne e anche questo è stato un momento molto toccante di questa giornata perché queste piante vogliono essere il simbolo del ricordo ma soprattutto vogliono essere il simbolo della rinascita della rinascita di tutta l'area vestina del comprensorio di Penne di Farindola e di Rigopiano piante che un domani diventeranno alberi proprio a testimonianza della ripresa della vita non di una normalità che ovviamente non potrà mai tornare a Rigopiano ma della ripresa e del riscatto anche di un comprensorio quello vestino duramente colpito lo scorso anno dalla valanga ma anche da giorni e giorni di maltempo e anche dal terremoto dunque 29 piante 29 simboli del dolore ma anche della rinascita io potrei chiamare un attimo qui lo chiamo Stefano Recanati che ha seguito con me oggi questa giornata anche per la web tv Vestina News Stefano tu tra l'altro sei loretese sei di Loreto e dunque abiti e vivi in quest'area Vestina così duramente colpita lo scorso anno da questa tragedia ne parlavamo anche con Alfredo Primante dallo studio una giornata importante per ricordare ma una giornata che vuole essere e vuole rappresentare anche il simbolo dell'inizio della rinascita proprio dell'area Vestina si spera che potrebbe essere così perché l'area Vestina ha bisogno di ripartire perché sicuramente non è stata solo il problema di Rigopiano ci sono tanti motivi per cui l'area Vestina in questo momento si trova in queste condizioni però da qui si potrebbe ripartire per creare qualcosa di buono di mettere in sicurezza quegli edifici o quelle strade dove si potrebbe tornare a fare economia quindi a dare importanza a quest'area che prima poteva essere un fiore all'occhiello anche grazie a delle fabbriche e delle industrie importanti Hai anche un po' seguito Stefano quello che sta accadendo all'interno del Palasport di Penne tantissima gente dentro molta gente anche fuori anche questo pomeriggio è stato toccante così come questa mattina Sì quello che mi ha colpito è che in base alle norme di sicurezza per cui il palazzetto può contenere 950 persone ci sono persone che all'uscita passano il biglietto alle persone che sono fuori che hanno aspettato tempo ore al freddo per entrare quindi c'è sicuramente tanta curiosità tanta emozione e anche questo è un fatto bello e positivo io volevo aggiungere solo a quello che dicevi prima tu il fatto delle piantine nelle piantine la cosa curiosa bella che ogni piantina porta il nome delle vittime questo è un altro ricordo bello e chiunque passa lì davanti potrà ricordare sempre queste persone che comunque hanno perso la vita questi amici grazie grazie a Stefano Recanati Alfredo credo siamo quasi in chiusura di collegamento perché sono quasi le 17.30 in diretta qui da Penne dall'esterno del Palasport di Penne noi diamo l'appuntamento al TG6 delle 19 saremo di nuovo collegati in diretta qui da Penne per parlare proprio della conclusione di questa giornata in ricordo delle vittime di Rigopiano grazie grazie a Paolo Renzetti grazie anche alla struttura di Vestina News che ci sta aiutando in questi collegamenti e questa lunga giornata al seguito delle commemorazioni per ricordare la tragedia di Rigopiano l'edizione straordinaria del TG6 termina qui come ha detto Paolo Renzetti l'appuntamento è per le ore 19 con la seconda edizione del TG6 in cui daremo ancora ampio spazio alle commemorazioni di Penne di questo pomeriggio e anche alla mattinata vissuta a Rigopiano grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione grazie a tutti